Ho visto entusiasmo nella voglia di salvare gli altri, quindi mi pare che sia stato fatto tutto ciò che era necessario. Adesso però bisogna rimettere un po' nel nostro paese le cose a posto per quanto riguarda il distesto idrogeologico, perché oggi piangiamo per Casamicciola, l'altro giorno abbiamo pianto per le Marche. E purtroppo queste cose accadono, è successo in passato a Genova, è successo in Sardegna, è successo in Campania tante volte. Il governo farà tutto ciò che deve, siamo pronti a riunirci a qualsiasi momento per prendere le decisioni indispensabili per aiutare questo territorio. È ovvio che gli interventi di primissima necessità sono i perventi dei soccorritori, poi però tocca al governo intervenire.